Lunedì settembre Buongiorno, ben trovati al primo appuntamento della settimana con la nostra consueta Rassegna Stampa. Mantieno 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il centro, le quattro edizioni. Partiamo da quella di Pescara. Il titolo di apertura riguarda i lavori in diverse zone della città con le ruspe che arrivano anche in piazza Primo Maggio. Siamo in pieno centro a Pescara, avanzano i lavori sulla riviera, metà mese chiuderà il cantiere ai colli. E poi vedete come sempre ogni lunedì grande spazio allo sport. In questo caso si parla del Pescara, ultimo sforzo per restare in Serie B. Vedete nella foto il tecnico della formazione adriatica Giuseppe Pilon che carica i suoi ragazzi in vista della gara di sabato allo stadio adriatico con Lascoli. Si tratta dell'ultimo cimento casalingo della stagione. Pescara che poi chiuderà il campionato nell'ultima giornata a Venezia. Manca dunque l'ultimo sforzo per la salvezza matematica. Vediamo le cronache. Siamo in provincia di Chieti ad Archi. Colpo fallito, 5 arresti dopo la sparatoria. E poi tornando a Pescara, la città da riscoprire di biase, salviamo i luoghi dimenticati. E poi a Penne si avvicina il grande evento dell'arrivo del Giro d'Italia nella nostra regione. E questa mattina ci saranno gli sbandieratori in attesa del Giro. Dunque prime iniziative per l'arrivo del Giro d'Italia. A proposito della Corsa Rosa, Viviani fa il bis a Eilat. Dennis resta in rosa. Poi vediamo altri titoli. Pescara da Ginobile a Richigio in campo, le star della solidarietà per la gara del cuore. E poi in basso vediamo altri titoli che riguardano in questo caso la cronaca regionale. In salvo 25 strade provinciali. La Corte dei Conti ha dato il via libera. Ora sono dell'ANAS. E poi crisi in Abruzzo, Oniwell oggi a Roma, l'incontro salva redditi. E poi si parla di previdenza, in festa per i 120 anni. Le iniziative che si terranno in Abruzzo. Siamo alla pagina del centro, la prima pagina in particolare della cronaca di Chieti Lanciano Vasto. Ovviamente il titolo principale riguarda questa operazione dei carabinieri. L'altra notte ad Archi, sparatori in strada, 5 arresti. Fallisce il colpo al Bancomat con l'esplosivo. Ferito uno dei banditi. E poi vedete lo sport, il MotoGP con il vastese Andrea Iannone che sale sul podio. Tornando alla cronaca, Chieti cecrisi, anche le bare vendute all'asta. E poi ad Ortona, parrocchie e bambini portano doni al patrono, patrono di Ortona che è San Tommaso. E poi a San Salvo la vertenza Pilkington. La parola passa ai lavoratori. E poi il calcio in questo caso con l'Avastese che pareggia per 3-3 all'Aquila. Ma gli aragonesi erano fuori dai giochi play-off con una giornata di anticipo. E poi a Lanciano festa a promozione per la vittoria del campionato di prima categoria della squadra allenata da Alessandro Delgrosso. Andiamo a vedere anche la prima edizione del centro di Teramo. Vince la gara dei redditi. Proprio Teramo vince la gara dei redditi sulla costa. La ricchezza arriva da case e ville. La montagna resta indietro. A proposito di Teramo, Teramo Calcio in questo caso le notizie tutt'altro che liete che arrivano proprio dei biancorossi che nonostante un grosso secondo tempo ieri non sono andati oltre il 3-3 con la Reggiana. E dunque Teramo che si giocherà la salvezza ai play-out con il Vicenza potendo contare sul ritorno in casa e anche su due pareggi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare. Vediamo altre notizie. Giulianova mette fuoco alla casa del vicino arrestato e poi l'addio a Francesca sulle note di Amami, la 17enne di Roseto scomparsa qualche giorno fa. E poi tornando invece al basket, dunque allo sport, Roseto K.O. a Roma. La salvezza passerà per Napoli perché c'è il secondo turno dei play-out con Roseto che affronterà la formazione partenopea. Siamo alla prima pagina del centro edizione di L'Aquila-Avezzano sul Mona, Bearsi chiede di tornare a scuola, L'Aquila crollo del convitto, l'ex preside fu graziato, parte civile furiosa. Vediamo poi il lunedì dello sport che riguarda il calcio di Serie D, le due formazioni dell'Aquilano, Avezzano e L'Aquila che si tuffano nei play-off. Che dunque vedranno protagoniste anche l'Aquila e Avezzano che hanno giocato, hanno disputato davvero un grande campionato. Vediamo le altre notizie. L'Aquila giro, strada chiusa, deflusso in funivia. Domenica ci sarà la tappa del Giro d'Italia che attraverserà l'Aquila. Poi Avezzano, ferie in ospedale. Ora manca il personale. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vedete il titolo di apertura. Far West in Val di Sangro, sparatoria nella notte a piane d'archi tra i carabinieri e una banda pugliese che tentava il colpo ad un bancomat. Arrestati cinque malviventi di cui uno ferito al piede. Non è in pericolo di vita. E poi vedete l'addio a Francesca sulle note di Emma, la 17enne morta di tumore a Roseto degli Abruzzi. Andiamo nella parte alta della pagina per vedere altri titoli. Balla con le stelle, Sara Verrocchio, vola a New York con una borsa di studio, questa ragazza di Montesilvano che si è messa in mostra nella fortunata trasmissione RAI. E poi a Teramo, bambini contesi dei pediatri, dottoressa accusa e una lobby. E poi all'Aquila, Asle, bilancio ok e nuovo cup, Tordera a caccia del rinnovo. Ovviamente anche sul messaggero, grande spazio allo sport, Pescara salvo, Pillon e Repetto da conferma. Il DS e il mister hanno accettato la sfida con contratto di tre mesi, contratti che potrebbero essere rinnovati. Ovviamente la parola passa al presidente della società bianca-azzura, Daniele Sebastiani. E poi la MotoGP, Yannone ancora sul podio a Ajerez, un po' di fortuna, ha detto il pilota bastese. Poi il calcio di Serie C, Teramo pari e play-out con il Vicenza. Poi vedremo anche il servizio su questo 3-3 incredibile di ieri sera al Bonolis. E poi un altro titolo, un altro articolo, Montepulciano, Bruno Vespa, celebra il cinquantesimo di Codice Citra. Andiamo a vedere ora, dopo aver visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, le prime pagine dei giornali nazionali. Apriamo come sempre con il Corriere della Sera. Si parla di politica, il Movimento 5 Stelle divide il centrodestra, Di Maio apre sul governo, Salvini apprezza, ma Berlusconi non cede. Poi il campionato di Serie A, 6 punti e 16 reti avanti per la Juventus. Ormai lo scudetto, il settimo scudetto di fila, è ormai cosa fatta? Vediamo anche Repubblica, anche qui in questo caso si parla di politica in primo piano. Gelo tra Salvini e Berlusconi, oggi il giorno della verità. E poi in basso, Casamonica, violenza al bar, solo una disabile si ribella, frustata con la cinghia. Proseguiamo con il fatto quotidiano, l'ultimo blef di Salvini. Di Maio leva l'alibi a tutti, o chiede un premier terzo, ma Berlusconi non si fa da parte. Vediamo il messaggero, la prima pagina nazionale. Offerta Movimento 5 Stelle, centrodestra diviso, governo di tregua, lista pronta. E poi la notizia che arriva dalla capitale, asfalto killer a Roma, una ragazza muore sbalzata dalla moto. E poi il calcio, la Roma e Spugna Cagliari 1 a 0, parte la fuga per la Champions. Vediamo anche il mattino di Napoli, offerta Movimento 5 Stelle, lite nel centrodestra. Di Maio a Salvini, scegliamo un premier terzo, ma senza Berlusconi, ipotesi casellati. Casellati che è presidente del Senato. In alto, ovviamente il mattino, quotidiano napoletano, parla del Napoli, che peccato. Vedete, e poi lo stricione, sposto dai tifosi in curva al San Paolo. Sarri uno di noi, perché ovviamente si continua a parlare del rinnovo o meno, cioè del proseguimento o meno del rapporto tra Sarri e la società azzurra. Siamo al tempo di Roma, rifiuti pericolosi all'aperto, questo è il titolo di apertura del tempo, la terra dei fuochi di Roma. E c'è questa inchiesta del quotidiano romano, poi vedete più in basso, la Lazio allo stremo delle forze, strappa il pari all'Atalanta. La Roma soffre, ma è 1 a 0 a Cagliari. Champion ad un punto. Vediamo anche la stampa di Torino. Berlusconi Salvini, lite sul Movimento 5 Stelle, il leader di Forza Italia. Nessun appoggio esterno al governo, tra Lega e Grillini, dunque tensione nel centro-destra. E poi la guerra fra gang che insanguina il Regno Unito, si disputano il controllo dei traffici della droga. Ieri uccisi altri due ragazzi di 17 e 20 anni. Vediamo anche il sole 24 ore. L'attesa verso il lavoro, divide le professioni. Questo è il titolo che riguarda la prima pagina del sole 24 ore. Mini ripresa per alcune categorie, anche sui compensi. E poi libero il Fornaio di Maio. Cala le brache, questo è il titolo di apertura. Il leader di 5 Stelle, io faccio un passo indietro, però anche Berlusconi deve farlo. La palla in mano al centro-destra. Sul piatto l'appoggio esterno di Forza Italia. Vediamo anche il secolo d'Italia, il passo di lato. Vedete nella foto in alto i due leader di Maio, del Movimento 5 Stelle e Salvini. In questo caso il passo di lato sarebbe quello di Di Maio, che ha detto sì ad un incarico, ad un terzo esponente politico, ma ovviamente bisogna vedere cosa accadrà e soprattutto cosa deciderà il Presidente della Repubblica, Mattarella. Siamo al quotidiano Il Giornale, appesi ad un filo, rebus governo, tensione al vertice del centro-destra dopo i veti di Di Maio. Oggi i partiti salgono al Quirinale, ma le urne si avvicinano e si potrebbe tornare al voto in anticipo. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Di Maio, Salvini, ultima chance. Alta tensione nel centro-destra, sull'appoggio esterno di Berlusconi. E poi vedete sul quotidiano Ligure, c'è ovviamente grande spazio alla cronaca locale, c'è anche un articolo che riguarda Genova, città a rischio, ecco gli impianti poi più pericolosi d'Italia. Dunque un escursus nel nostro Paese, sulla mappa delle aree industriali. Il quotidiano genovese, secolo XIX, l'ultimo giornale dell'edicona nazionale che abbiamo preso in esame. Possiamo tornare ai quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro, dalla crisi in Abruzzo che riguarda il lavoro, l'occupazione. In particolare la Honeywell, incontro decisivo. Vedete il titolo di pagina 2, incontro decisivo a Roma. Il vicepresidente Lolli, oggi dal ministro Calenda, per salvare i redditi di 400 lavoratori. Intanto per la vendita spunta la Edlor. E poi si parla di polizia. Il sindacato della Polizia, uno dei sindacati della Polizia di Stato, il SIULP, l'abruzzese Lauri, diventa segretario nazionale. E poi il gioiello d'Abruzzo, caramani così della regione, ai lavori, salva cattedrale. E poi si parla in basso di politica regionale. Ad Alfonso apre tre sedi per fare il senatore. Alla vigilia del nuovo attacco politico dei 5 Stelle, il governatore informa i questori della sua iniziativa. Strade Marridotte, è arrivato il salvataggio, è fatta per 25 strade provinciali che sono passate allo Stato. La Corte dei Conti dà il Via Libera. L'Abruzzo, prima regione a centrare l'obiettivo, sono diventate queste strade dell'ANAS. D'Alfonso avvisa i presidenti delle quattro province. Vedete in questo articolo l'elenco delle strade che passano dalle province all'ANAS. Montepucciano d'Abruzzo si alza il sipario, citra celebra il Fenaroli, mezzo secolo, della DOC e Vespa sul palco. Intervista il vicepresidente del CSM Legnini e lo chef stellato Nico Romito. Andiamo avanti, si parla in questo caso di politica nazionale, vediamo solo questa pagina per poi passare alla cronaca dalle province. Di Maio tenta la Lega, vedete il titolo di apertura, centrodestra nel caos, ma come abbiamo visto su diversi quotidiani si potrebbe avvicinare il ritorno alle urne. Dunque le elezioni. Siamo a Pescara, la città cantiere, lavori in diverse zone del capoluogo adriatico, lavori sulla riviera, da oggi le ruspe, in piazza Primo Maggio. E poi gli otto circoli cittadini del PD dicono no al governo con il Movimento 5 Stelle. Anche a Pescara c'è stata questa chiacchierata nei vari circoli del PD di Pescara per capire qual è l'orientamento degli iscritti, dei simpatizzanti al PD che hanno detto no ad un eventuale accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Parliamo della FIAB Pescara Bici, l'associazione ambientalista con Laura Di Russo che lascia la presidenza a Filippo Catania. Andiamo avanti da Ginobili a Ricky Gio, solidarietà in campo, all'Adriatico il triangolare di calcio con Abruzzo All Star, polizia e armoniae, autografi e selfie con cantanti ed attori. L'incasso devoluto alla Wildm, c'è stata questa partita, la partita del cuore allo Stadio Adriatico, vedete la foto, con una delle formazioni schierate al centro del campo. La città da scoprire, scusate, un osservatorio sui luoghi cancellati, questa l'idea, questa l'iniziativa, perché le ricerche dello storico Licio di Biase sui monumenti dimenticati e dunque proprio questa iniziativa di Biase che dice in alcuni casi ruspe più violente dei bombardamenti. Vedete questa pagina intera dedicata a quelle che sono le bellezze storiche, anche i luoghi cancellati di Pescara e ce ne sono davvero tanti, vedete anche delle foto d'epoca. Siamo a Penne, gli sbandieratori colorano Penne, conto alla rovescia per la tappa del giro, l'area vestita si prepara all'appuntamento del 15 maggio. E poi vediamo un altro titolo che riguarda la cronaca, siamo ad Elice, sorvegliato speciale arrestato mentre passeggia in paese. Altre due notizie che arrivano sempre dalla provincia di Pescara, c'è pagati il Movimento 5 Stelle, raccoglie le firme, Fiucci, candidato sindaco, si voterà nella cittadina di Cepagatti e poi Montesilvano, discariche abusive in via Rimini, subito la ruspa. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti del centro, l'economia che non va, c'è crisi all'asta, abiti griffati, ruspe e bare in vendita nei tribunali. La merce requisita nelle imprese e nelle attività commerciali che non riescono più a pagare. E poi siamo a Villa Santa Maria, eno gastronomia della salute, l'Ateneo, apre all'alberghiero, c'è questo accordo tra l'Università d'Annunzio e proprio l'alberghiero di Villa Santa Maria. Villa Santa Maria, il paese dei cuochi. Andiamo in basso, i ragazzi del Masci, torniamo a Chieti, presentano la riqualificazione di Via Toppi. E poi il premio Marucino va alla compagnia della Cayani, rassegna dialettare l'elenco in questo articolo di tutti i vincitori. Siamo alla notizia che riguarda il colpo fallito, l'assalto al Bancomat, cinque arresti dopo la sparatoria, ferito un bandito, gli altri presi dei carabinieri dopo un inseguimento in strada e nelle campagne. E' stato catturato anche il basista, a tal proposito abbiamo anche realizzato proprio un servizio su questa importante operazione dei carabinieri. Ieri, nonostante la giornata domenicale, c'è stata questa conferenza stampa presso il comando provinciale di Chieti per illustrare proprio questa importante operazione. Allora possiamo andare a vedere il servizio. Sembrano scene di un film poliziesco con tanto di sparatoria in seguimento, ma poteva finire in tragedia per un gruppo di ventenni e residenti della zona. Cinque arresti nella notte tra sabato e domenica a piani d'archi. E' fallito il colpo della banda composta da cinque pugliesi, uno era il basista locale residente a Casoli. I carabinieri li stavano aspettando, un vero e proprio postamento in borghese tra le case in via nazionale. I militari dell'arma hanno atteso che i banditi inserissero la cosiddetta marmotta dentro lo sportello esterno dell'ufficio postale dopo aver sfondato la vetrata. Poi sono usciti coi mitra in pugno. Sulla scena del crimine si trovavano inconsapevolmente anche quattro amici di Selva di Altino, appena usciti dal bar Zappacosta. In tre erano andati a prendere la barista che aveva finito il turno, quando si sono trovati davanti degli uomini coi mitra spianati. Il panico e poi la retromarcia a tutto gas che ha portato l'Alfa 156 con i quattro ventenni in braccia ai malviventi. I militari fanno fuoco e colpiscono l'auto alle gomme sul montante della portiera anteriore destra. Credevano fossero di supporto i banditi. Nel frattempo uno dei malviventi brandisce il Kalashnikov e non si ferma all'alte intimato dai carabinieri che sparano anche all'indirizzo della stilo colpendo il radiatore e l'uomo. La fuga dei foggiani verso Casoli avrà vita breve. Dapprima abbandonano il compagno ferito ad una gamba e l'auto nei pressi dell'incrocio delle quattro strade. Poi fuggono a piedi nelle campagne dove ad attenderli c'era il basista in un casolare con l'auto pulita, ma i carabinieri le acciuffano prima. Tragedia sfiorata per i quattro amici di Selva di Altino, ma anche per i residenti accanto all'ufficio postale, che sulla parete esterna ha due contatori del gas, mentre sul retro la proprietaria della palazzina ha una bombola di gas per la cucina. Giunti sul posto alle 6 del mattino, gli artificieri di Chieti hanno disinnescato la marmotta inesplosa dopo aver evacuato 10 persone nel raggio di una ventina di metri. Le operazioni sono terminate alle 9 del mattino. La scientifica ha rilevato e catalogato oltre una ventina di bossoli che ricoprivano quel tratto di asfalto della nazionale. I dettagli sono stati resi noti in conferenza stampa nel comando provinciale dei carabinieri a Chieti, con la presenza del capitano di Lanciano Vincenzo Orlando e il tenente Massimo Canali del Norma e il luogotenente Federico Ciancio di Atessa, oltre a vari comandanti delle stazioni locali che il colonnello Florimondo Forleo ha ringraziato. Gli arrestati sono tre di Cerignola, Massimiliano Lionetti, 46 anni, armato di Kalashnikov, Potito Diglio, 36 e Francesco Reddavide, 33 e poi due di Orta Nova, Antonio Cataldo, 39 anni e Cristoforo Aguilar, 35. Tutti hanno precedenti specifici. I cinque sono accusati di tentato omicidio poiché durante la fuga hanno cercato di investire militari dell'arma e poi porto in detenzione illecita di esplosivi, tentato furto aggravato e ricettazione. Ma la banda, proveniente dal Foggiano, ha anche altri componenti che vengono utilizzati di volta in volta per i vari colpi. Uno di questi, identificato, è stato quello messo a segno il 26 marzo scorso ai danni della Gelleria Follie d'Oro all'interno del centro commerciale Lanciano e poi l'ultimo, in ordine di tempo, l'assalto il primo maggio scorso allo sportello Bancomat della B per Amozzagrogna. Fondamentale è stata l'attività investigativa coordinata dalla procura di Lanciano con i GPS installati nelle auto di ignari ospiti di bed and breakfast locali provenienti da Cerignola e Orta Nova, evidentemente per fare sopralluoghi prima dei colpi. Perché noi ci troviamo di fronte a bande di rapinatori che si organizzano sul momento in funzione dei colpi da effettuare. Quindi le intercettazioni classiche molte volte non danno tutti gli elementi per determinare dove possono colpire. I GPS invece ci localizzano il territorio, soprattutto in funzione di sopralluogo, e ci danno un'idea degli obiettivi probabili. In funzione di quello vengono monitorati con i servizi e si cerca di prevenire perché il problema è l'utilizzo dell'esplosivo nell'assalto al Bancomat. Cambiamo pagina, ci spostiamo all'Aquila, si parla anche all'Aquila nel capologo di regione della tappa del Giro d'Italia, la tappa di Campo Imperatore. Giro, strada chiusa, le auto deflusso solo con la funivia. Ci vorranno ore per consentire a migliaia di persone di riscendere a valle, ma resteranno aperte le strutture ricettive in modo da intrattenere la folla. Andiamo in basso, caso rifugiati verso il vertice di maggioranza, lo chiede D'Eramo della Lega dopo l'ok di Forza Italia al progetto ed è scontro sul lavoro affidato alla moglie di Biondi. Siamo alla seconda pagina dell'Aquila del Centro. Bearsi chiede di tornare a scuola da appena sei mesi dalla Grazia. Vedete il titolo di apertura. Il preside fu condannato a quattro anni di reclusione in seguito al crollo del convitto. Morirono tre ragazzi. La parte civile insorge, noi contrari al provvedimento di Clemenza, ma non siamo stati ascoltati. Cambiamo pagina. Un argomento più che altro, concorso musicale all'auditorium di Tempera. E poi in basso, ci spostiamo nella parte centrale della pagina, Ance, al vaglio la posizione di Barattelli, i propri biviri si riuniranno per decidere sull'autosospensione dalla carica di Presidente dopo la condanna. E poi in fondo alla pagina, Gran Festa in città con le vecchie 500 e le Vespe, successo del Memorial Martinelli. Andiamo alla pagina di Teramo e Teramo provincia del centro. Siamo a Giulianova in particolare, da fuoco alla casa del vicino arrestato. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, il piromani è stato sorpreso nel cantiere della palazzina in ristrutturazione. Alba Adriatica, scontro all'incrocio. Un'auto si ribalta frontale fra una lancia con quattro drag queen e una golf con una famiglia ed un bimbo di due anni. Addio a Francesca sulle note di Amami in tanti. Ieri a Roseto, vedete il titolo per i funerali, della 17enne studentessa e giocatrice di pallavolo, stroncata da una malattia. In basso siamo a Giulianova. Eliana si decide a giorni per il recupero. L'ente Porto cerca fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il sollevamento del relitto. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo andare a vedere però le pagine interne del quotidiano, dell'inserto sportivo del messaggero. Prima di fermarci per una breve pausa, siamo a Pescara, provincia senza fondi. Pista ciclabile invasa dalle erbacce, degrado dei danni sul lungo fiume, frattura pericolosa sulla rampa del Ponte Flaiano, la rabbia dei ciclisti. E poi, ballando con le stelle, Sara vola a New York. E poi Montesilvano picchia i genitori novantenni per i soldi della pensione, allontanato da casa all'Aquila. Bilancio ok, nuovo call center, Tordera a caccia della conferma. A fine giugno il rinnovato servizio CUP. I lavori sono slittati di circa 30 giorni. E poi le strategie. L'ASM apre ai comuni ok alla vendita. E poi, vedete l'evento, questa fotonotizia, presentato il nono calendario, che inizia il 6 aprile, questa iniziativa di cui vediamo proprio la foto. E poi la cronaca in basso, pensionato minaccia due agenti con un fucile. E poi ancora Rossi in Russia con il sindaco, i lobbisti, tutto gratuito. Questa è la polemica di cui leggiamo l'articolo nella parte bassa della pagina. Siamo alla pagina invece che riguarda Avezzano Sulmona. Nuovo esecutivo, siamo ad Avezzano. De Angelis alla prova. Domani ancora una giornata di passione per il sindaco che sceglie gli assessori della rinnovata giunta comunale. E poi Pescasseroli, WWF, Pronatura, Depuratore. Dicono, è opera insostenibile. E poi a Sulmona, i due pitbull killer dovranno sparire. Leggiamo poi altre notizie che arrivano dalla Marsica. Ad Avezzano, Don Gianni di Loreto e i 25 anni di sacerdozio. E poi ancora nella Marsica, Lenen allaccia la corrente alla fabbrica. C'è il grazie dell'imprenditore. Proseguiamo. Pagina di Chieti del messaggero. Spari in seguimento. Presa la banda, cinque arresti ed un ferito. Abbiamo visto pochi istanti fa il servizio. E poi le spine, privatizzazione e asili nido. Chiesto un incontro al sindaco. In basso le testimonianze su quanto accaduto ieri ad Archi. Il racconto dei residenti. Evitata la tragedia. Abbiamo ascoltato anche il colonnello Forleo. Abbiamo dato una risposta ai cittadini. Spostiamoci poi a Vasto perché dopo dieci anni di diatribe arriva anche la pista pedonale nella città aragonese. Andiamo a vedere un'altra pagina del messaggero. Eccola qui. Riguarda la cronaca di Teramo. Teramo provincia. Bambini contesi dai pediatri. Dottoressa denuncia. E' Lobby. E poi palloncini e lacrime nell'addio a Francesca a Roseto degli Abruzzi. E poi ad Alba Adriatica l'auto cappotta. Cinque feriti. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Allora prima di aprire la pagina dello sport, come sempre ampia, ogni lunedì ci fermiamo per qualche istante. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo alla seconda parte di Mattino 6. Siamo alla pagina sportiva. Partiamo con i titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport. Juve ormai è tuo. Vedete il titolo con il tricolore. La Juventus ad un passo davvero della conquista del settimo scudetto consecutivo grazie alla vittoria con il Bologna e dal pareggio casalingo del Napoli. Le ultime speranze di Sarri, cancellate da un bel toro. Potrei pensare all'addio, ha detto il tecnico Campano, all'addio al Napoli. Poi Euroshow Inter fa quattro gol, Lazio ora meno due. Roma quasi fatta per la Champions League. Vediamo da questo specchietto della Gazzetta dello Sport i risultati. La classifica dopo le gare della trentaseiesima giornata del massimo campionato. Sabato i due anticipi con la vittoria del Milan per 4-1 sul Verona. Poi il 3-1 della Juventus sul Bologna. Le gare di ieri Udinese Inter 0-4. Chievo Crotone 2-1. Genoa Fiorentina 2-3. Lazio Atalanta 1-1. Napoli Torino 2-2. Spal Benevento 2-0. Sassuolo Sampdoria 1-0. Cagliari Roma 0-1. Vediamo la classifica. Juventus 91. Napoli 85. Dunque fatta praticamente per la squadra di Allegri. per lo scudetto, come dicevamo, poi Roma 73. Lazio 71. Inter 69. Milan 60 che stacca l'Atalanta che ora ha 59 punti. Poi Fiorentina 57. Sampdoria 54. Torino 48. Genoa 41. Sassuolo 40. Bologna 39. E poi la zona calda della classifica con la Spal che ha 35 punti. Chievo, Crotone e Udinese 34. Cagliari 33. Poi Verona 25. Benevento 18. Già retrocesse. Vediamo il Corriere dello Sport. Juve e Tuo. Lo scudetto della Juve. Ormai ad un passo. Vedete nella foto la festa dei bianconeri dopo la vittoria con il Bologna. Champions Roma di Francesco Inguai. Cagliari resta solo al terzo posto. In questo caso basta un punto per blindare proprio la terza piazza. Una notizia che riguarda invece il volley. Perugia in festa. Campione d'Italia. La formazione Umbra. Primo titolo maschile della storia. Chiusa 3 a 2. La serie con Macerata. Chiudiamo con tutto sport. Toro spacca Napoli. Festa Juve. Il pareggio dei cugini della vecchia signora. spalanca le porte alla conquista dello scudetto per la Juventus. Siamo alle pagine dello sport del centro e poi del messaggero. Con Piloni. Pescara non molla mai. Terza rimonta in sette gare con il tecnico Trevigiano. Sabato la sfida salvezza contro Lascoli. Saltiamo le pagine che riguardano la serie A. Perché abbiamo visto poco fa i risultati e la classifica del massimo campionato. Il Giro d'Italia. Ieri la terza tappa con Viviani che concede il bis. Elia Viviani, 29enne. Ora lui il re delle volate. Con questa vittoria importante in Israele a Eilat. Oggi ci sarà il trasferimento da Israele in Sicilia. Dunque si entra nel nostro paese. Ed intanto per la prossima edizione, il 102esimo Giro d'Italia, il patron Vegni pensa ad una partenza dagli Stati Uniti. E poi il MotoGP vince ancora Marquez. Adesso è primo. Ma le notizie positive per quanto riguarda la nostra regione riguardano Andrea Iannone. Giunto terzo. Ancora un podio per il pilota Vastese. Vedete in alto il titolo. Iannone terzo posto da applausi. Il Vastese dice che con Suzuki abbiamo sofferto ma stiamo facendo progressi. E siamo al Pescara di Pillon che non molla mai. A Novara è arrivata la terza rimonta in sette gare. Sabato contro Lascoli. Basterà un punto per restare in Serie B. Intanto una notizia che riguarda l'ennesima panchina che salta nel torneo cadetto perché Lentella ha esonerato il tecnico Aglietti dopo la sconfitta dei Liguri a Salerno. Dunque continua la girandola di panchine nel campionato di Serie B dove ieri nell'anticipo nel derby Emiliano-Romagnolo il Cesena ha battuto in rimonta il Parma per 2-1. Cesena che avvicina la salvezza. Ora i Romagnoli hanno 46 punti. Da 43 si sono portati a 46. Un punto in meno del Pescara. E Parma che probabilmente deve dire quasi addio alla conquista del secondo posto. Lascoli si gioca il futuro. Gli ex Cosmi e Ganza caccia di rivincite perché se al Pescara basterà un pareggio nel prossimo turno, proprio nel derby dell'Adriatico con Lascoli, ai bianconeri marchigiani servirà la vittoria. L'allenatore Cosmi, ex del Pescara, sogna il colpo dopo il mancato rinnovo di contratto. Nel 2014 ci fu la sconfitta bruciante nei play-off di Cosmi che era allenatore del Trapani con il Pescara di Massimo Oddo. Vedete questa foto che fece storia quel giorno allo stadio di Trapani. L'abbraccio di Oddo che va a consolare Cosmi in lacrime dopo il pareggio di quella gara che sancì la promozione del Pescara in Serie A. Molti ricorderanno quella partita incredibile con quel gol segnato dal Pescara Severre, un tiro da 40 metri e il pallone si infilò alle spalle del portiere siciliano. Grazie a quel risultato il Pescara salì in Serie A. Noi siamo invece alla Serie C per parlare del Teramo. Teramo che sfiora la vittoria salvezza, davvero ad un passo la salvezza diretta dei Biancorossi. Ieri 3-3 con la Reggiana, mette sotto la formazione emiliana il Teramo, rimonta tre volte al 96esimo il palo, gli nega il gol che avrebbe evitato i play-out. Il 19 di maggio ci sarà l'andata al Menti di Vicenza, una settimana dopo il 26 ci sarà il ritorno al Bonolis Zichella. La sfortuna ci perseguita, ha detto il tecnico Biancorosso. Intanto nella prima sfida con il Vicenza il tecnico non avrà né Graziano né Ilari che verranno squalificati. Vediamo anche come il messaggero commenta le vicende di Pescara e Teramo. Ripartiamo dal Pescara. Pescara in salvo con due firme DOC. Si parla della possibile, probabile e auspicabile conferma della coppia Repetto-Pillon, protagonista della missione Salvezza. Importante anche la preparazione atletica che era stata svolta da Zeman nell'ultimo ritiro. e ha tratto giovamento dall'ultima preparazione atletica della squadra. Anche Pilon. Valzania, se l'Atalanta mi dà in B, resto con il Delfino. Queste le dichiarazioni di Valzania rilasciate anche ai nostri microfoni al 91esimo della gara giocata al Silvio Piola di Novara. E poi in basso conferma logica, ma la società è logica, questa è la domanda che si fa il messaggero, in attesa di capire se e quando ci sarà la conferma di Repetto di Pillon, del tecnico originario di Preganziol. E intanto resta in silenzio il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Siamo al Teramo, Teramo pari e rimpianti, ora play-out, finisce 3-3 con la Reggiana. Gondò si divora la palla goal della Salvezza nel finale. Gondò aveva fallito anche un altro goal praticamente fatto qualche minuto prima sul risultato di 2-2. Ma noi andiamo a vedere il servizio su questo rocambolesco 3-3 tra Teramo e Reggiana. Non c'è stato il miracolo al Bonoris, il Teramo si giocherà la permanenza in Serie C play-out con il Vicenza, in una coda della stagione regolare da Brividi. Ma il rammarico è grande perché una vittoria sarebbe bastata per ottenere la salvezza diretta a causa dei risultati favorevoli arrivati dagli altri campi. Certo che se il Teramo avesse giocato in questo finale di torneo come nel secondo tempo con la Reggiana probabilmente le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. C'è però la speranza del ricorso della Procura federale sul proscioglimento del Sant'Arcangelo con un'eventuale penalizzazione di due punti per i romagnoli che permetterebbe al diavolo di salvarsi. Formazioni e moduli quasi annunciati al Bonolis con i padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. All'undicesimo spavento per i biancorossi con speranza che rischia l'autogol mandando la palla sul palo della porta di calore prima della conclusione alta di Rosso che però era terminato nel frattempo in fuorigioco. Il Teramo si rende pericoloso al tredicesimo con un tiro di poco fuori misura di ventola. Sul capovolgimento di fronte poi Cesari in area terramana ad alzare sopra la traversa. Le due squadre attaccano e giocano a viso aperto con la rete ospite al diciannovesimo di Eric Panizzi con una conclusione spettacolare di piatto che mette alle spalle di calore la sfera. Gelo sugli spalti del Bonolis con i ragazzi di Zichella che rispondono con panico al ventitresimo con un tiro alto. Gli abruzzesi fanno come spesso in stagione una gran fatica a proporre gioco e creare occasioni da rete. Alla trentaquattresimo c'è però un'opportunità per Varas che conclude fra le braccia di Facchin. Alla trentaseiesimo Zichella opera già la prima sostituzione mandando in campo Amadio per Tulli infortunato. Nella ripresa si riparte con San Domenico e Gondò al posto di Panico e Varas. I bianco-rossi passano così al 4-3-3. Zichella alza infatti il baricentro della squadra con San Domenico che al quinto quasi dal limite di destro colpisce la traversa prima della rete di Amadio che dei venti metri supera Facchin e rianima per qualche istante la sua squadra che subisce però due minuti dopo la rete di Bob che da oltre 30 metri con un tiro che non sembra irresistibile sorprende ancora calore. Di nuovo tutto da rifare per i padroni di casa che all'undicesimo arrivano ad un passo dal nuovo pareggio con un diagonale di Condò a cui diceva Facchin prima del servizio di San Domenico per Sales che viene però anticipato prima della conclusione. Il Teramo ci mette in questa ripresa cuore e grinta che erano mancate però nel primo tempo e soprattutto per gran parte della stagione. Al quarto d'ora proteste vibranti in casa Teramo per una caduta in area emiliana di Gondò. Il penalty arriva però al diciassettesimo quando il fischietto Ternano punisce un tocco con la mano di Bob in area. Bacio Terracino non sbaglia e mette il pallone in rete. In campo c'è un altro Teramo, squadra letteralmente scatenata che arriva al ventiduesimo ad un passo dal 3 a 2 con un colpo di testa di Graziano che manca di pochissimo e il bersaglio grosso. La reggiana pare in difficoltà. I ragazzi del presidente Campitelli cercano di approfittarne per il sorpasso. Al trentasettesimo Gondò si divora però davanti a Facchin incredibilmente il gol del 3 a 2 e come spesso accade nel calcio al gol mangiato arriva il gol subito con Napoli che va a segnare la rete del nuovo vantaggio reggiano e che fa piombare la squadra del presidente Campitelli nel dramma. Ma il calcio non a caso è lo sport più bello del mondo visto che al quarantesimo Ilari fa 3 a 3 riaccendendo di colpo le speranze dei biancorossi che chiudono assediando letteralmente l'area di rigore della reggiana e trovando il palo clamoroso di Gondò al novantaseiesimo in quello che sarebbe potuto essere il gol della salvezza diretta. Così non è stato con il pensiero che va alla doppia sfida con il Vicenza e con il Teramo che come nella passata stagione potrà salvarsi anche con due paregi. Si giocherà la gara di andata al Menti, il ritorno una settimana dopo a Teramo. E dunque ci sarà qualche giorno per preparare la doppia sfida con la formazione biancorossa Vicenza ha battuto a Bergamo dall'Albinoleffe e Vicenza che ha chiuso la stagione regolare all'ultimo posto della classifica. A proposito di Teramo vedete in basso vediamo dal centro Zichella che si rammarica dopo questo pareggio la sfortuna ci persegui l'ha detto il tecnico Biancorosso in treviste che vi abbiamo proposto ieri nel corso dell'Abruzzo del pallone trasmissione condotta da Jacopo Forcella. Siamo alla Serie D per parlare dell'ultima giornata di campionato ieri gli ultimi 90 minuti con il derby dell'Aquila che ha visto un pirotecnico 3-3 tra i padroni di casa e la vastese rosso-blu dallo 0-2 al 3-3 in una gara rocambolesca con pali e traverse. Domenica ci sarà la semifinale dei playoff in e trasferta perché ci sono tre abruzzesi su quattro che parteciperanno alla pool promozione si tratta di Avezzano, L'Aquila e Pineto, ricordiamo anche le due semifinali con Matelica, L'Aquila e poi il derby Avezzano-Pineto ma noi andiamo a vedere quello che è successo al Gran Sasso d'Italia 3-3 tra L'Aquila e Vastese. Il servizio. L'Aquila calcio agguanta un pareggio 3-3 contro la Vastese con la certezza dei playoff matematici già dalla scorsa giornata la prima dei playoff sarà fuori casa a Matelica un pareggio tutto grinta da parte dei rosso-blu che hanno riadrizzato risultati in una gara in cui la squadra di Mister Colavicto era partita decisamente meglio al terzo minuto De Julis manda fuori di poco il suo colpo di testa al quarto Padovani scheggia la traversa ma al decimo sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Tedesco angolo battuto da Fiore, palla svirgolata al centro dell'area la difesa quella è una pasticcia e il giocatore della Vastese è bravo a metterla in rete al tredicesimo è l'ex di turno Stivaletta a mettersi in luce Farroni si salva col ginocchio al sedicesimo arriva però il raddoppio ospite proprio con Stivaletta, gran tiro dal vertice alto che trafigge Farroni pochi minuti dopo al ventesimo cross dalla destra di Caffiero Boldrini accorcia le distanze, è 1-2 al trentacinquesimo il tiro a volo di Rucci termina di poco sopra all'incrocio dei pali mentre al trentottesimo Stivaletta dal limite impegna Farroni che si salva in angolo al quarantunesimo palo clamoroso di Fiore servito da Leonetti preludio al gol ospite, il terzo con Leonetti che fa tutto da solo e punisce Farroni nella ripresa l'Aquila entra in campo con un piglio diverso e si vede il primo del rosso-blu a provarci è dopo un minuto Caffiero dal limite Camerlengo para in due tempi al quarto però arriva il 2-3 Rucci serve a Padovani che davanti la porta non perdona sostituzioni poi da entrambe le parti e ancora occasioni in un derby sicuramente avvincente, bello da vedere al 23esimo l'Aquila acciuffa il pari con Esposito angolo battuto da Boldrini, torre di Caffiero e tocco finale del difensore aquilano sul finale l'Aquila qualche pericolo lo corre al 43esimo palo di Rucciarini e subito dopo cross di Pizzutelli per Leonetti che di testa manda al lato di poco Mister Battistini elogia il suo gruppo e il suo staff con il quale si presenta in sala stampa questione societaria da vedere per la vastesa invece un campionato a due facce Diceva nel servizio Daniele Rosone Battistini esalta il suo staff vedete un gruppo eccezionale ecco il titolo in basso sulle dichiarazioni e con le dichiarazioni del tecnico della formazione Rosso Blu che ha esaltato proprio il suo staff Battistini che potrebbe lasciare l'Aquila o forse no e si dice addirittura si parla di un interessamento proprio per l'attuale tecnico aquilano della vastesa ne sapremo di più nelle prossime settimane parliamo invece di quest'altra gara anche questa una gara rocambolesca solo un gol ma tante emozioni al Dei Marsi dove l'Avezzano non ha fatto regali ha battuto il Matelica per 1-0 grazie ad un gol del solito Dos Santos sullo 0-0 la formazione marchigiana ha fallito un calcio di rigore questa sconfitta del Matelica ad Avezzano ha permesso alla Vis Pesaro di salire in Serie C di vincere dunque il campionato noi andiamo a vedere quello che è successo proprio nell'impianto Marsicano ieri grande cornice di pubblico ad Avezzano quasi 2000 spettatori Avezzano batte Matelica 1-0 la fine amara di una stagione stregata le lacrime del Matelica sotto gli spalti dei 300 arrivati per festeggiare la vittoria del campionato così non è stato al Dei Marsi passa l'Avezzano cinico spietato e l'Avis Pesaro fa festa a 227 km di distanza Giampolo fa turnover ci sono D'Ambrosio e Scutti larghi in difesa Menna e Tariuc centrali Bisegna e Bianciardi a centro campo Deramo e Pollino sugli esterni Cerone e Dos Santos a formare il solito binomio d'attacco Matelica senza la sua punta di diamante Andrea Magrassi capo cannoniere bianco rosso squalificato per tre giornate manca anche Mancini infortunato non c'è se e non c'è ma anche contro una corazzata come l'Avezzano la vittoria è l'unica soluzione contemplata l'ingresso in campo è una passerella della capolista e della terza potenza del campionato il primo colpo al quarto è dell'Avezzano bella manovra corale servizio per Dos che spara a filo palo si alza la bandierina dell'assistente al nono Bianciardi scalda il piede Cherezovic in presa diretta minuto 24 Gabbianelli vede il corridoio da fuori scarica la botta Fanti si rifugia in angolo è proprio sul corner che ne scaturisce confusione nella mischia Callegaro trova la sfera in uscita e prova la conclusione di potenza ancora Fanti a dire di no 36esimo l'Avezzano manovra dalla destra attraversone basso ad attraversare l'intera area di rigore Pollino a rimorchio non trova lo specchio il Matelica prova ad impensierire la retroguardia di casa Brentan guadagna metri sulla destra mette il cross raso terra Fanti è sulla traiettoria l'incredibile si materializza al quarantesimo il direttore di gara indica il dischetto sul tocco di mano di Scutti calcio di rigore sul punto di battuta Vacchiere Mateng Chicco Fanti blinda la porta e blocca il pallone la Nord ai suoi piedi e guardate cosa fa il portiere Avezzanese al quarantaquattresimo sulla botta ravvicinata avversaria è lui la bestia nera del Matelica si torna negli spogliatoi con gli animi divisi a metà la capolista prende il vantaggio della Vis tutto si deciderà in 45 minuti non cambiano le formazioni a rientro in campo Bisegna battezza la ripresa botta dalla distanza sfera sul fondo al decimo sull'ennesima parata di Fanti sembra che il copione non sia cambiato al quattordicesimo calcio di punizione Matelica da posizione molto interessante lo Sicco va dritto in porta ma manca di precisione primo cambio voluto da Tiozzo fuori Angelilli dentro da Polonia tre minuti dopo cambio anche in casa Vezzano Cerone richiamato ai box campo a Michele Priorelli e arriva l'episodio che sconvolge la scala dei pronostici il lancio di precisione di Bianciardi per Doss che taglia verso Cherezovic e lascia partire il sinistro che si infila sotto l'incrocio e fa 21 sul conto dei gol personali è lui sempre di più il capo cannoniere del campionato Tiozzo subito ai ripari triplo cambio fuori Lillo De Gregorio e Chiare Mateng dentro Tonelli Riccio e Oliveira Gian Polo richiama Polino e Deramo spazio ha ritrovato Dennis Besana e Marco Acatullo al quarantesimo si vede il Matelica con Gabbianelli Fanti battezza fuori un minuto dopo cuccato alla palla del pari poco lucido il neo è entrato azione sfuma nel finale c'è spazio anche per Persia per far rifiatare Bianciardi passerella per Bomber Matteus Dos Santos dentro De Roccis e allora la Tegola per l'Avezzano allo scoccare del quarantacinquesimo fallo di Persia all'altezza della propria tre quarti per Di Graci di Comoe rosso diretto Persia salterà la semifinale playoff contro il Pineto saranno sette minuti di recupero ma davvero non accadrà più nulla finisce uno a zero per l'Avezzano diciassettesimo risultato utile consecutivo miglior difesa del campionato e domenica al Dei Marsi sarà la volta del Pineto il Matelica consuma il suo personale dramma sportivo a Castelfidardo la Vispesaro si lascia andare all'entusiasmo mentre Tiozzo e i suoi raccolgono comunque gli applausi dei propri sostenitori prima di lasciare andare qualche lacrima e realizzare un pomeriggio duro da digerire duro da digerire questo verdetto per il Matelica che aveva dominato per gran parte questo campionato prima di questa flessione nel finale finale con una vittoria un successo per il Francavilla vedete il titolo congedo tra gli applausi ribaltato il Monticelli al Valle Anzuca i ragazzi del tecnico Iervese vincono per 2 a 1 ma Iervese potrebbe salutare il Francavilla vedete anche nel finale nel dopogara la dichiarazione del tecnico giallorosto una fantastica avventura potrebbero separarsi le strade tra il Francavilla ed il tecnico pescarese non è andata bene invece al San Nicolò San Nicolò che perde a San Marino e va ai play out dove trova la Iesina si giocherà in gara unica domenica 20 maggio in caso di parità ai supplementari se resta l'equilibrio Biancazzurri salvi dunque San Nicolò salvo per la migliore classifica andiamo a vedere quello che è successo a San Marino con questa sconfitta della formazione guidata da Fabio Montani la questione doppia figliazione tiene banco e i tifosi del nucleo 2000 con striscioni e cori difendono la società Biancazzurra martedì ore 18 alla casa del calcio incontro chiarificatore tra San Marino e federazione gioco calcio san marinese che determinerà il futuro della società di Via Rancaglia la partita di oggi non aveva alcun valore in termini di classifica per il San Marino ce l'aveva e come per gli abruzzesi che con un risultato positivo avrebbero evitato i play out l'atteggiamento della formazione di Montani non è esattamente quello di una squadra con il coltello tra i denti e il San Marino ne approfitta con un 1-2 terrificante tra il sedicesimo e il ventesimo prima Nappello approfitta di una respinta corta di Cannella su tiro di Ghiadda per mettere in rete da pochi passi poi è Tommaso Guidi con una bella conclusione da fuori area a portare il Titano avanti di 2 e San Nicolò nei guai con il vantaggio contemporaneo dell'Agnonese nella ripresa Bardeggia ha la palla per chiudere definitivamente i giochi Cannella respinge in angolo successivamente arriva il gol della speranza per gli abruzzesi con il tocco di testa sotto misura di Giampaolo ci sarebbe il tempo per raddrizzare la situazione ma è un appello con la sua doppietta personale a spingere definitivamente il San Nicolò ha i play out il San Marino chiude a 51 punti frutto di 15 vittorie di cui 5 in casa e 10 fuori 6 parezzi e 13 sconfitte e un futuro tutto da scrivere al San Marino Stadium San Marino batte San Nicolò Teramo 3 a 1 e sagra del gol a Recanati dove passa il Pineto per 5 a 3 Pineto già sicuro dei play off gioca un'ottima gara contro la formazione marchigiana che aveva timbrato la salvezza nella gara precedente a Vasto vediamo dunque il servizio su questa vittoria della formazione del presidente Brocco nelle parole di Roberta Di Sante Finisce in poesia nella terra di Giacomo Leopardi per il Pineto e domenica sarà derby play off al Dei Marsi contro l'Avezzano di Giampaolo al Tubaldi di Recanati la squadra dell'ex Amaolo si impone 5 a 3 sulla Recanatese e blind al quarto posto Alessandrini sceglie il 4-3-1-2 con Olivieri in cabina di regia dietro le due punte Pera e Falomi leggero turnover per Amaolo nel 4-3-3 tornano Mazzocchetti tra i pali esposito a sinistra e con Tomassini non al top lasciato precauzionalmente a riposo in avanti il tridente composto da Di Rocco Gragnoli e Farias appena tre giri di lancette il risultato si sblocca sugli sviluppi di una rimessa laterale Pera ben appostato sul secondo palo approfitta del caos in aria e in sacca di testa per l'1-0 in favore dei padroni di casa immediato arriva però il pari del Pineto che porta la firma di Gragnoli autore di una gran botta dai 25 metri che lascia in pietrito Stefanelli le due formazioni giocano a viso aperto e danno vita ad una gara bella avvincente e condita da ottime trame di gioco al decimo sulla percussione di Esposito Stefanelli ci mette letteralmente una mano mentre due minuti più tardi Pepe in sacca di testa sul corner di Pezzotti ma il direttore di gara ciato ravvisa una scorrettezza in area e annulla la rete ma il Pineto spinge in avanti ed è solo questione di tempo a ribaltare il risultato al 23esimo ci pensa Di Rocco che raccoglie il cross dalla sinistra di Gragnoli e piazza il pallonetto alle spalle dell'estremo marchigiano la partita è viva e gli ospiti rispondono colpo su colpo al 24esimo il diagonale di Giaccaglia termina di pochissimo a lato un minuto più tardi in mischia Falomi non ci arriva di un soffio ma la regola non stritta del calcio è sempre in agguato e al 27esimo Di Rocco è velocissimo sulla destra ad accentrarsi dopo una gran sdroppata e piazzare il diagonale che vale il tris e la doppietta personale per il giovane pescarete la re canatese però non ci sta e alla meggiora accorcia le distanze Marchetti fa il pari con Gragnoli raccoglie l'invito di Olivieri e piazza il pallonetto alle spalle di Mazzocchetti gran gol per l'ex Savona nel finale di primo tempo Pera prova a riportare il risultato in parità facendo valere tutto il proprio tasso tecnico ma poi sbaglia leggermente la mira calibrando di poco sopra il 7 il secondo tempo riprende sugli stessi ritmi elevati del primo al sesto Falomi fa le prove del gol un gol che si concretizza al ventiquattresimo gran botta di Olivieri respinge con i pugni Mazzocchetti giaccaglia raccoglie e mette il crostagliato per Falomi che riporta il risultato in parità tutto da rifare per la truppa di Amaolo che però non demorde in una gara che si fa sempre più entusiasmante e si riporta in avanti dopo appena tre minuti con il neo entrato Cercelluti che con una percussione delle sue scardina le maglie della difesa giallorossa e mette a segno il poker sul capovolgimento di fronte Marchetti sfiora l'incrocio dai 25 metri è una gara senza esclusione di colpi e al 32esimo c'è spazio anche per il gol dell'ex quando Mariani raccoglie palla al limite dell'area e piazza la conclusione sotto l'incrocio per il 3 a 5 nel finale c'è ancora tempo per il palo di Cercelluti che potrebbe valere la sesta rete e lo spunto di Senigallesi che termina di pochissimo al lato dopo tre minuti di recupero festa e applausi per tutti la re canatese nonostante la sconfitta festeggia la salvezza davanti al pubblico di casa il Pineto autore di un'ottima prestazione lancia un messaggio all'Avezzano ora l'appuntamento più importante domenica prossima al Dei Marsi per un finale di stagione da protagonisti siamo quasi in chiusura vediamo che è successo nei campionati di eccellenza e promozione con playoff e playout la finale playoff di Pineto tra Paterno e Spoltore finisce 0 a 0 e in virtù del miglior piazzamento il Paterno che accede agli spareggi nazionali giocherà contro i Laziali della Dispoli con gara di andata il 20 maggio vediamo i playout River Chieti Miglianico 2 a 5 il River retrocede Miglianico spera si salva scusate vince il cupello con il Montorio per 3 a 2 e Montorio che retrocede in promozione per il cupello un successo importante che sa di speranza vediamo invece i playoff del campionato di promozione Ortone errori a caro prezzo in finale va il Casalbordino che vince per 1 a 0 nella Coppa Mancini tra le due squadre che avevano vinto il campionato il team Terramano della Virtus batte il Delfino Pescara per 6 a 5 ai calci di rigore vediamo le partite dei playout dei due gironi Mutignano Alba Montaurei 2 a 0 dunque il Mutignano festeggia la salvezza si salva anche il Tossicia che dopo i supplementari batte la Palmenze Santomero per 2 a 1 fa festa anche la Fater Pescara 2 a 0 sulla Virtus Pratola e si salva anche lo Sportland Celano che batte per 2 a 1 il Castiglione Valfino andiamo a vedere quello che è successo nel basket dove le note non sono propriamente positive per Roseto che perde gara 3 del primo turno dei playout a Roma per 84 a 75 ora la salvezza passerà per Napoli domenica prima gara contro i Partenopei coach di Paolo Antonio dice partita condizionata dagli arbitri e l'amatori saluta anche i playoff pescaresi battuti in casa in gara 3 da Valmontone per 85 ad 82 esce a testa alta la formazione pescarese il Campli si inchina passa il turno il Palestrina i Farnesi in partita fino all'intervallo Palestrina che vince per 79 a 65 in serie C vediamo i risultati con Maggi che chiedi e Vasto che vanno in finale Pescara salvo Chieti Termoli 90 a 75 Vasto Silvi 56 a 51 dunque la finale Chieti Vasto e poi Pescara che batte il Teramo per 70 e a 56 e si salva infine il ciclismo la Scolano Ciccanti trionfa alla Sirente Bike Marathon è tutto dunque per questo primo appuntamento della settimana con Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti.